L'appuntamento è fissato per la fine dell'estate ma le grandi manovre per il rinnovo del management della Camera di Commercio sono già iniziate dal documento che è stato stilato ieri sera a Emerge, un particolare non trascurabile, il nuovo consiglio che dovrà essere drasticamente ridotto nei suoi componenti, secondo il deliberato approvato, dovrà essere composto solo da imprenditori, dunque neanche più rappresentanze terze o espressioni di funzionari delle categorie, una scelta che premia una proposta che a derezzo è sempre stata attivata e approvata e che in passato invece ha visto una netta differenzazione con Siena. La diminuzione è stata dunque confermata, il consiglio passerà da 33 a 25 unità, tutto è in alto mare invece per i nomi relativi al vertice dell'ente, non è da escludere che possa essere riproposta la candidatura dell'uscente Massimo Guasconi, i grandi lavori dunque sono iniziati e non mancano altri pretendenti al massimo scranno di via Spallanzani.